Nasce in via Marzabotto a Domodossola il polo della pubblica amministrazione. Entro l'estate qui troveranno casa l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Dogane. Quest'ultima manca dal capoluogo slano da inizio anni 90. Oggi i suoi uffici sono dislocati presso Domodue. La giunta domese ha approvato in questi giorni le convenzioni che ne regoleranno la permanenza, oltre che della Dogana, anche delle altre due amministrazioni nella palazzina dell'ex tribunale. Al pian terreno dello stabile di via Marzabotto troveranno casa gli uffici della Camera di Commercio. Nei locali adiacenti ci sarà spazio per la sede della Protezione Civile Comunale. Nella restante parte si accaseranno gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, oggi ospitati presso l'ex comunità montana. Gli uffici del piano rialzato accoglieranno invece i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane. I lavori di adeguamento dei locali inizieranno già nelle prossime settimane. Gli uffici dovrebbero essere pronti nel giro di qualche mese. Oltre al mantenimento dei servizi di Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio, che così collocati vedono una stabilizzazione permanente per scongiurare rischi di accentramento e di chiusura, abbiamo riportato a Domodossola anche gli uffici amministrative delle Dogane e dei Monopoli, rinnovando una tradizione che si era interrotta. Le Dogane lasceranno comunque un punto di controllo operativo a Domodue, ma i suoi uffici amministrativi, con circa 30 dipendenti, torneranno di nuovo nella nostra città, ha spiegato il sindaco Pizzi. Il progetto, insomma, ridà vita ad un edificio abbandonato dopo il trasferimento degli uffici giudiziari a Verbania. Non posso che dirmi soddisfatto. Abbiamo immaginato realizzato un polo concentrando importanti servizi in un unico sito. Ha concluso ancora Pizzi.